La bella Chiara Ferragni torna nei diversi social network, primo fra tutti Instagram, mi ricordo infatti che proprio in questo social network conta un sacco di follower, credo più di 20 milioni in totale. Ma lei è l'influencer più famosa d'Italia e del mondo, non si scoraggia anche per quello che è accaduto di recente, e dunque torna finalmente in splendida forma fisica con tanto di trucco al suo meraviglioso e dolce volto, viso, e mette anche un bel post scrivendo mi siete mancati, corredato da un meraviglioso cuoricino di colore rosso che in fin di frase ovviamente non passa al vicetto, inosservato. Torna dunque nei social dopo qualche piccola sventura, ma nonostante tutto, sempre più bella, sempre più in gambe, sempre più intelligente, Chiara va avanti per la sua strada. Qualcuno la difende, quasi tutti, altri addirittura la insultano pesantemente e le scrivono offese irripetibili. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, forza Chiara Ferragni, sempre e comunque. Ciao da Reandro, narratore da Reandro.